Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo nuovamente su Dyson Sphere Program, episodio numero 5 e desidero ringraziare Ruben che mi ha dato dei preziosi consigli soprattutto quello di costruire un tank invece di un deposito, perché se vedete il deposito di liquidi, dato che è fatto per depositi solidi, non occupa 100 a slot ma soltanto 20, infatti la produzione si era bloccata, infatti era lentissima la produzione dei blocchi rossi perché questo magazzino era pieno e quindi non potendo più avere spazi dove archiviare il petrolio si era bloccata anche la produzione di idrogeno, idrogeno che è assolutamente importante per la produzione dei blocchi rossi, quindi ho fatto questa cosa, ho sistemato questa cosa, poi tra l'altro mi diceva allora ho chiarito il dubbio sul fatto che queste torri qui servono per caricarci e come mi diceva anche Ruben mi serviranno tantissimo in futuro quando potrò volare, volerò sui pianeti, volerò su altri pianeti, quindi per caricare, mi consigliava anche di andare a ricercare tecnologia del mecha core, quindi che sarebbe questo, mecha core 2, poi l'engine, il volo, insomma sbloccarlo, da fare ce ne sarà tanto, infatti valuterò un pochino, mi farete sapere anche voi in questo breve episodio, nei commenti sotto se vi va, se vi interessa che io continui magari questa serie, guardando i risultati direi che vi interessa, ma se magari vi interessa vederlo a un livello un po' più avanzato in modo da magari ci gioco qualche ora e vi mostro qualcosa di nuovo, di più avanzato, perché insomma qua da vedere ce ne sarà tanto e insomma devo anche ricercare combustibili, c'è il thermal, ok, il thermal power che presumo o funziona a carbone o funziona a petrolio, vediamo, coal, ok, coal ma probabilmente lo fa anche col petrolio e il petrolio è abbastanza infossato in questo momento perché il petrolio va dentro qui, quindi qua non può uscire, quindi dovremmo studiare un modo per far arrivare il carbone in una centrale, magari in questa zona qui, in modo da ampliare la produzione di energia elettrica, non è ottimizzatissima dire la verità questa serie, ma avrete anche consigliato come ottimizzarla, ma al momento è così, e tra l'altro non possiamo nemmeno potenziare i cristalli rossi perché al momento la produzione impiega tot secondi, cioè c'è poco da fare, e mi chiede questi, allora sui cilindri non ci sono problemi perché ne stanno arrivando una marea, il problema è sull'idrogeno che viene prodotto comunque meno, e io mi chiedo ma ci sarà un modo di produrre idrogeno magari usando l'acqua, scendendo l'acqua, vediamo un attimo nella ricerca se c'è qualcosa che magari, crystal smelting lo sto ricercando solo semplicemente perché poi potrò fare l'energy storage e quindi fare le batterie, poi magari l'ho già ricercata e non lo so, plasma refining, no facciamo prima vedere le cose che posso craftare, vediamo un po', questo è lo smelter, questo è il matrix lab, lo smelter, ore e metal no, oil refinery ok, oil extractor, water pump, no, no, direi che storage, no, 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 lo smelter, facciamo una prova con lo smelter, vediamo se riusciamo a ottenere magari una produzione direttamente dall'acqua, così sfrutteremo anche quello, vediamo ma dubito, lo smelter mi produce, che cosa mi produce, no, ma io vorrei, selectare si, ok, no, mi fa silicon ore, still, no, direi che non mi produce niente di quel tipo lì, quindi no, dovrò probabilmente cercare qualcosa, levitation technology, molto interessante anche questa, che ci sblocca, che cosa? fa levitare gli oggetti, sì, questo l'avevamo già visto tra l'altro, il fuel rod, no, base chemical engineering, ok, chemical plant, crude oil, ok, possiamo fare la plastica, qua sì, l'avevamo già visto anche questo, deuterium, no, chiedo consiglio anche a voi, se poi sapete qualcosa, se sapete consigliarmi, perché qua sembra essere molto molto lungo, quindi vedete anche il planetary logistic system, quindi potremmo andare con delle torri a trasferire le merci tra un pianeta e l'altro, quindi magari questo qua lo spolperemo bene e poi diventerà un pianeta, pianeta di sola produzione elettrica. Allora, vediamo un attimo, facciamo una cosa, dato che siamo qui e stiamo aspettando che la ricerca vada a buon fine, io vorrei fare una cosa di questo tipo, produrre un altro oil extractor, se posso, no, non posso, perché devo prendere steel e plasma exciter, il plasma exciter lo posso fare con questi e questi, il prism, il prism lo faccio col vetro, mannaggia, no, mi serve, in questi casi facciamo una cosa un po' così, andiamo, prendiamo, prendiamo dei giacimenti, insomma, prendiamo del carbone, 50 di carbone, prendiamo un po' di iron così, un po' di copper e produciamo tutto quello che ci serve dopo, perché lì vorrei sfruttare ancora la produzione di, c'è un altro pozzo petrolifero, magari c'è un pozzo anche qua vicino, è di là, di là però un po' più scomodo, vediamo, prendo anche 100 di questi, grazie, vediamo se riusciamo a farlo adesso, voglio fare l'oil extractor, ok, mi mi manca tutto, mi manca, quindi devo fare lo steel, lo steel, devo farlo presso un, uno di questi, ok, quindi, fammi lo steel, steel, e gli butto dentro materiale, no? sì, vai, fammi un po' di steel, ok, poi, 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 stiamo andando a rilento, lo so, ma per questo vi chiedo se vi interessa vedere qualche gameplay, magari in una fase un po' più avanzata, dove me lo gioco un pochino, adesso non me lo sto giocando un pochino di getto, perché magari qualcuno di voi non lo ha ancora acquistato, e quindi gli va di vedere un pochino com'è il gioco, però, ovviamente, questo sarà l'ultimo gameplay di questo tipo, se non gradite la formula, che poi, per certi versi, può essere anche rilassante, però posso anche immaginare che non diverta a tutti, o l'extractor, ok, plasma exciter, beh, diventa, diventa prosta la cosa, qua, perché per fare il vetro ci vuole la pietra, e la pietra, io adesso, non mi ricordo mai dov'è, là c'è l'iron, qua c'è il carbone, ma non ho un'estrazione di pietra, possibile, ma, allora, provvediamo subito, allora, vediamo un po', extracting, produce, abbiamo anche l'inventario quasi pieno, tra l'altro, quindi, qui è subito fatto, eh, non è niente di complicato, allora, allora, prendiamo questo, lo prezziamo così, poi prendiamo la torre qua di alimentazione, che alimenterà il tutto, poi prendiamo il rullo, che va qui, e va, al magazzino, magazzino, che facciamo immediatamente, storage, devi mollarmi, però, con ste cose, perché, ok, stone break, ovviamente servono gli stone break, e quindi, risolveremo uno degli annosi problemi che abbiamo riscontrato finora, che devo andare a scavarmi a mano la pietra, poi magari l'avevo già fatto e non lo so, però, al momento, facciamo così, allora, tac, tac, e poi, mannaggia, mi servono sempre, sti affari qua, che non sono mai abbastanza, ok, e poi, da qui, portalo dentro, lì, molto bene, fine, ok, ha risolto un problema, la roccia l'abbiamo, adesso bisogna, eh, adesso per un po' vicino a questo, vabbè, ho l'extractor, aspettiamo un po', allora, per fare questo ci servono questi, ci servono questi, ci serve il vetro, il vetro serve la roccia, eh, è tosta, tosta la cosa, prendo un po' di materiali, vediamo se adesso possiamo, siamo un po' più favoriti, sì, fantastico, o l'extractor, nel mentre lo produciamo, valutiamo, no, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua, perché non ha senso farlo di là, allora, intanto, abbattiamo l'albero, che è molto fastidioso, allora, intanto sta producendo, come se non ci fossero domani, lì, produciamo l'oil extractor, lo estraiamo, poi lo raffiniamo, nuovamente, perché vedete che qua non riesce a starci dietro, comunque, cioè, ha solo un ingresso, ma, non, cioè, dovrebbe degli ingressi che da qua, che sembra uno delle prese di rete, però, non, non ha senso, perché, comunque, vedo che comunque un po' devono, devono aspettare, no, dai, ne facciamo, facciamo un altro raffinatore dopo, quando abbiamo finito di produrre questo, vediamo se l'raffinatore ce la facciamo a farlo, oil refinery, eh, no, ovviamente, still e quello, ok, dai, tanto, andiamo a prenderci anche un po' di still, dec, sì, metterlo qua, sì, poi, still che stava producendo là, sì, poi non è minimamente organizzato qua, bisognerà proprio gestirci, comunque, come diceva anche Colosso, il gioco garantirà una quantità spropositata di ore, comunque, anche solo voler magari mettere un pianeta solo a produzione di alcuni oggetti base, come possono essere questi, eh, da fare ce ne sarà, non vedo l'ora proprio di lasciare il pianeta e di vedere come sarà, intanto dovrei aver prodotto la, questa, sì, tac, mettila lì, no, mettila di là, va, che è un po' più comoda, eh, la torre Tesla non l'abbiamo, ma dovrebbe essere alimentato, no, quindi facciamo anche la torre, eh, e poi vediamo se riusciamo a fare l'assemblatore, la, 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 la refinery, refinery, sì, riusciamo a farlo, fantastico, eh, poi, fatta la torre, sì, sta producendo ancora, mi sa, e così lo alimentiamo e iniziamo la, la cosa, allora, in pratica, qua, tu mi farai il percorso che esce, così, e poi va di là, ok, poi, producimi un paio anche di queste, perché poi alimentiamo il tutto, eh, aspettiamo, 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 aspettiamo che finisca di fare sta roba, beh, dai, sta diventando anche un bel, poi a tanti, c'è tanti, una persona in realtà, mi scoccia che ci sia solo il robot, puoi vedere solo dove c'è il robot, ma è quello il bello, secondo me, un po' alla Factorio, e non un po' anche alla Satisfactory, insomma, quindi, research speed too low, ok, questa è la, la soluzione, dobbiamo, che cosa dobbiamo fare, research, no, la consuma, ok, sì, questa è tutta la guida, ecco, quello che si può dire è che non manchino delle guide in questo gioco, comunque all'interno, in inglese, ovviamente, però, dai, 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 adesso ce la facciamo, intanto magari faccio un altro giretto a prendere un po' di materiali, ok, prendo un po' di materiali che mi servono, ok, poi a me fanno impazzire tutti questi movimenti della produzione, poi, vabbè, c'è da dire, Satisfactory dà ancora più soddisfazione, perché vedete un po' le macchine al lavoro, però il fatto di avere questa visuale così, non in prima persona, non con un mondo in scala 1 a 1, cioè, lo trovo anche un po' più, un po' più rilassante, forse, ok, prendo anche questo, ricerca quasi, ha finito in realtà, quindi andiamo a piazzarlo e poi alimentiamo il tutto, anzi, magari metto anche in produzione altri due di questi, il sorter, ok, quindi, eccolo là, bello però, visto così è, sì, non è propriamente scala 1 a 1, è tutto molto gigante, però, no, allora, raffinatore, eccolo qui, raffinatore che ruota e va così, così è già giusto, perfetto, così, e tu raffini, è molto bene, poi, il sorter prende da qui, butta lì, ok, e da qui, butta dentro, raffina, esce, allora, tack, vai e alimenta gli entrambi, molto bene, allora, raffina, plasma refining, sì, ok, poi, allora, vediamo, devo produrre delle, di queste, alcune di queste, quindi possiamo farne una decina massimo, facciamo una decina, poi vediamo, allora, intanto, inizio a metterle, così inizio a vedere da dove escono, perché non ho proprio idea di dove, da dove arrivino, allora, facciamo così, collide con altri oggetti, così, e così, poi, già, 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 è vero, che dobbiamo dividerli, è vero, mi ricordo, uno, due, poi, qui, butti, il, eh, l'idrogeno, e qui butti l'altro, eh, l'idrogeno, l'altro, era, crudo, no, come che era, era quel, mannaggia, dov'è, questo, ok, perché non va? Ah, perché l'ha già accumulato? Ma, ah, oddio, c'è qualcosa che non va, perché sta accumulando, ma non sta buttando fuori, perché? Ok, set filter, questo, no? Ah, no, no, ho fatto uno sbaglio, non ho, non serve nemmeno il sort, qua, credo, perché, ho fatto uno sbaglio io, devo solo connettare meglio i, la logistica, ok, da lì a lì, vai, ok, infatti, infatti, funziona, ok, adesso iniziano a buttare fuori le due merci, ho iniziato a lavorare, anche questo, dovrebbe produrre, infatti, stanno arrivando, perfetto, adesso, quello che facciamo è andare a buttare il, mannaggia, gli ho sbagliati, il sort, mi era più comodo, farlo di là, allora, qua l'idrogeno, vabbè, ma non è un gran problema, allora, voi, vieni avanti, ti sposti di qua, vai di qua, ok, poi, sort, di nuovo, craftane ancora, ok, sì, sì, fate, fate, lavorate bene, ok, quindi, sort, da qui, butta dentro l'idrogeno, non me l'ha connesso, però, da qui a lì, ok, e invece, facciamo un altro serbatoio, so che è una soluzione poco efficiente, però, al momento, così è, facciamo, il, percorso da qui, a qui, e poi butti dentro nel serbatoio, che ha finito di costruire adesso, e che piazziamo qui, con il sort, che da qui, butta dentro, no connection, ah no, ok, dobbiamo farne un'altra, ok, no, ma credo che non serva, no, infatti, perfetto, non è ottimizzata per niente, però, il primo pianeta, adesso, tecnicamente, dovremmo avere, un ingresso doppio, di quel materiale, e quindi, una migliore, produzione, di cubi rossi, o almeno, dovremmo essere più veloci, qui dovremmo produrre ancora più, sì, poi in realtà, sì, abbiamo due serbatoi, potremmo magari fare, poi, due colonie, nel senso che potremmo, ehm, quando produrremo energia, faremo che questo petrolio, vai e alimenta una zona qui, ehm, un'altra centrale, che poi andrà ad alimentare, così, a cerchio, anche la, la, di là, di là, che alla fine era, la nostra prima produzione, che tra l'altro, sì, tra l'altro, sono un babbano, perché l'avevo già fatta, ehm, vedete che poi, riprendere in mano, i, i gameplay, dopo un po', mi, mi perdo via, poco male, abbiamo una produzione, l'avevamo anche qua, la produzione di pietra, oltre che qua, abbiamo doppia, doppia, al momento la pietra, che era quella che mi serviva meno, è l'unica di cui abbiamo una doppia produzione, quindi, va bene, la ricerca ci metterà una vita ancora, eh, quello c'è da dire, quindi, vediamo se riusciamo a fare dell'altro, intanto, i pannelli solari non funzionano, di notte, adesso è notte, però l'energia è sempre messa bene, non vedo oscillazioni, nella forza, insomma, quindi, eh, diciamo che la produzione qua, di, di still è molto importante, quindi potrebbe essere saggio, fare una cosa, ancora più saggia, cioè andare a riposizionare lo smelter, in un punto dove, magari gli arriva, il, la cosa lì, la materia prima, che è il lingotto, quindi potremmo farla qui, allora, qua arriva, che cos'è questo? Il lingotto, perfetto, quindi, se lo smelter, io lo piazzo qui, che è tutta in zona alimentata, quindi, vedete che ognuno è sotto un'alimentazione, quindi, ok, prendo un, di questi, lo metto qua sotto, e lo faccio entrare di là, ok, prendo, vediamo se funziona, questa mia teoria nuova, prendiamo il sorta, gliene facciamo buttare uno ogni tanto, perché non credo, abbiamo ancora la possibilità di dividere, di scegliere di cosa, ok, e da qui, butti dentro lì lì, ok, qui, produci, lo steel, non è alimentato, ah sì, perché non arriva lì, vabbè, poco male, lo mettiamo qua, la rete elettrica è completamente alimentata, vedete che poi, alla fine, non si perde neanche tanto, questo produce steel, produce steel, che esce qui, da qui, e va, eventualmente, poi, in un magazzino, quindi, magazzino, di nuovo, tac, tac, sorter, ne abbiamo come se non ci fossero domani, ok, tac, via, magazzino, fine, sorter, tac, tac, eh, sorter, ovviamente, da qui, a lì, proprio ridicola come cosa, però, vabbè, diretta, bella, ok, abbiamo ottimizzato, abbiamo ottimizzato, con l'estrazione di, un altro, sì, che poi in realtà, si potrebbe fare, dato che, il regime è altissimo qua, di produzione, cioè, alla fine, non ci sta quasi dietro, cioè, non si vede neanche spezzarsi, talmente vengono prodotti, e vengono prelevati, si potrebbe pensare, di prelevarne, di più, da altre parti, quindi, ma in realtà, proviamo come mi avete suggerito, cioè, fare una cosa di questo tipo, prendere la doppia, sì, poi, abbiamo anche finito questi, è un continuo produrre rulli, però, vabbè, e anche sorter, ok, allora, sì, mamma mia, l'energia sta finendo, adesso, tra un attimo, smetto, mi metto in carica, più che smetto, anche perché sto producendo, il mondo adesso, quindi, mi metto qui, guardate come carica velocemente, sì, in effetti, è utilissimo, è utilissimo davvero, la rete è veramente efficiente, costruita in modo, completamente irrazionale, però, funziona, adesso, vediamo, vediamo se sarà efficiente, questa nuova, nuova costruzione, che abbiamo ipotizzato, cioè andare avanti da qui, girare di là, e prendere il sorter, e metterlo, dentro di là, magari metterà in difficoltà, la colonna adesso, ma direi di no, mamma mia, che production, ok, ecco, abbiamo risolto un problema, ma poi, ci fosse qualcosa, per cui c'è bisogno di produrre, quello, di più, più velocemente, insomma, o qualche altro materiale, cioè, tecnicamente, tutto quello che noi abbiamo qui, adesso, è producibile, con un circuito dedicato, però, calcolando, come l'ho organizzata male, questa base, non ha senso, cioè, questo qua è un gioco, dove voi, magari ve lo giocate 50 ore, poi capite di aver fatto una cavolata, ricominciate, e lo fate in modo molto più logico, della stessa cosa che farei io, e come ho fatto io, anche in altri giochi, quindi, va bene così, allora, niente, stiamo continuando la ricerca, adesso aspetteremo, che la ricerca finisca, e poi inizieremo anche la produzione, delle batterie, la strada, allora, adesso io vi chiedo domanda, così di fine video, vi piacerebbe aspettare un po', e vedere una fase un po' più avanzata di gioco, o vi piace vedere, che ce lo giochiamo, come fosse la prima volta, quindi anche in questo episodio, dove non abbiamo fatto granché, ma abbiamo ottimizzato un pochino, abbiamo creato accidentalmente, una nuova stazione qua, per la pietra, insomma, perché l'avevo fatta, ma in realtà c'era già, e abbiamo creato questa, questa, questa qui, che era una cosa non richiesta, però insomma, che alla fine si era rivelata utile, anche perché qua, io potrei fare anche un'altra cosa, ecco, ricordatevi la domanda, perché io poi me la dimentico, insomma, se vi piacerebbe fare questa cosa qui, perché se io adesso prendessi da qui, un sorter, che va giù, potrei fare, magari poi mi direte, se voi sei giusto, la mia teoria, se io faccio così, e vado di là, e poi vado di là, e mi faccio un altro sorter di qua, tac, altri due, tac, potrei tecnicamente, sfruttare al massimo questo, cioè probabilmente non sta dietro lui al passo, come produzione, però, però diciamo che questa, è una buona, l'ha messo in crisi per un momento, quando ho dovuto riempire tutto, però vabbè, niente dai ragazzi, fatemi sapere, fatemi sapere come vorreste proseguire, se volete proseguire la serie, o se l'avete già comprato tutti, non volete più vederlo, non c'è problema, perché ci sono mille altri giochi, che si possono vedere, e che vi porterò prossimamente, ecco, quello che succede quando vi scaricate è questo, camminate due all'ora, ecco il punto, se siete nelle fasi iniziali di gioco, siete fregati, perché dovete stare fermi per una vita, e ricaricarvi, e magari buttarvi dentro un po' di carbone, e aspettare che si ricarichi, se no, in questo caso, io mi sposto qui, e vedete che adesso inizio a camminare bene, perché vado a ricaricarvi, poi ovviamente, se state producendo qualcosa, costruendo qualcosa, il consumo scende ancora di più, ragazzi, e alla prossima, fatemi sapere, e ciao ciao!